L'ufficio passaporti della questura di Padova aveva rilevato un aumento ingiustificato di cittadinanze italiane rilasciate dal comune di Piombino d'Ese e così la squadra mobile con un'indagine ha individuato un gruppo di cittadini brasiliani che vivono tra le province di Padova e Treviso specializzati nel far ottenere a connazionali falsi certificati da presentare in questura. Per velocizzare il rilascio del certificato c'era la complicità di due dipendenti del comune che aiutavano a ottenere la cittadinanza italiana con tempi più veloci rispetto a quelli previsti. A tutti gli indagati sono contestati i reati di falso ideologico in atti pubblici e introduzione illegale di cittadini stranieri nel territorio nazionale. La squadra mobile ha sequestrato all'ufficio anagrafe di Piombino d'Ese tutta la documentazione sul rilascio delle cittadinanze e l'indagine prosegue per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Grazie.